Ok, dice se io avessi una killer application, chi mi garantisce che nessuno va a vedere dentro il codice? O magari anche dentro i dati forse? Ok, ricordamolo poi nella sessione, la vediamo. Allora, due parole velocissime, mi chiamo Roberto Brunetti. Fra tre giorni, quindi alla fine di questo mese, sono passati vent'anni dalla mia prima sessione. Il che mi fa di diritto un old consultant, non più un senior consultant. È un po' triste, no? Perché comunque è veramente passato tanto tempo. Però la cosa buffa è che diciamo sempre le stesse cose più o meno allo stesso pubblico, no? È cambiata la tecnologia, si lavorava in clipper a quei tempi. Era una sessione su visual object. Non so quanti di voi hanno avuto il piacere e non piacere di vedere quel ambiente. Però fondamentalmente facciamo sempre le stesse cose, no? Forniamo dei dati a degli utenti e inseriamo dei dati di questi utenti, fine della storia. Ringraziamo ovviamente i nostri sponsor. Per chi non mi conosce faccio parte del gruppo DevLip. Appunto, lo faccio da un po' di tempo. Abbiamo scritto qualche libro, fra cui uno su Windows Azure e due su Windows 8, se vi interessano per il cammino, per cose di questo tipo. Riprenderei da stamani mattina. Non so quanti di voi erano in plenario, assumerei quasi tutti, ma probabilmente non tutti, perché qualcuno è arrivato dopo. Uno dei problemi che abbiamo da sempre, che è un problema, ancora una volta, di lunga data, fra virgolette, è cercare di capire qual è il dimensionamento corretto dell'hardware, della linea, della banda, del nostro staff interno rispetto a un'applicazione che dobbiamo fare. Sia che, credo, si faccia un sito di commercio elettronico, quindi un qualcosa che deve essere sempre online, con alto traffico e con potenziali di vendita alti, sia che facciamo un sistema di mailing che magari deve stare acceso solo qualche ora al giorno, nel momento in cui mandiamo le mail, o perché no, qualche volta al mese, cioè nel momento in cui mandiamo le mail, per esempio, per il sistema di commercio elettronico, ci dobbiamo porre lo stesso problema che si è posto a questa azienda nel 1956 e ormai non c'è nessuna sorpresa, l'idea era forniamo un servizio, perché in effetti era tale, era un servizio tra l'altro a pagamento, come potrebbe essere un'applicazione di oggi, in cui appunto mostriamo l'ora corrente a chiunque, era un servizio italiano, potrebbe scalare a livello mondiale, forse la SIP l'aveva copiato da qualche altra azienda di qualche altro Stato, è esattamente quello che succede oggi con i nostri sistemi informativi. E la domanda che appunto si sono posti è quante persone metterò a rispondere a questo call center, fra virgolette, oppure quante linee devo tirare su, quante telefonate contemporanee dovrò avere all'interno di questo mio servizio, nel ciclo di vita di questo servizio. E soprattutto come faccio a far fronte ai momenti di picco, per esempio in cui, pensate a un sito di commercio elettronico, sotto Natale ovviamente ho bisogno di molta più potenza, piuttosto che magari d'agosto, tanto per fare l'esempio solito, ho bisogno di molta meno potenza. Oppure come faccio a far fronte a dei picchi momentanei, faccio una campagna pubblicitaria per dei prodotti a sconto e mi aspetto che ci sia ovviamente un ritorno in termini di click su quella mail, anche semplicemente per venire a vedere che cosa sto offrendo. Quindi il mio sito diventa un sito ad alto traffico. E quindi credo, poi ritorniamo sulla slide di stamani, che o compriamo l'hardware che riesce a reggere il momento di picco e affittiamo delle linee che riescono a reggere il momento di picco, evitando comunque di avere dei problemi in quei momenti, però chiaramente pagando una cifra che non ci serve aver pagato adesso, dove invece non siamo in un momento di picco, oppure decidiamo di stare un attimino sotto staffati per spendere meno, problema di budget che tutte le aziende hanno, comunque problema costi che tutte le aziende hanno, cercando di capire come fare a reggere il momento di picco. Allora l'idea di Azure, in generale, del cloud però soprattutto di Azure è cercare di risolvere questi problemi, cioè evitare di pensare a un livello di carico ipotetico e dover andare a gradini allocando del budget, che vuol dire risorse in termini di banda, schede di rete, hardware, ridondato, dischi, storage e così via. Faccio un sistema di, non so, ricezione di fotografie per dei fotografi, ho bisogno di storage ovviamente, sapete che lo storage ormai costa pochissimo, però se lo devo comprare e metterlo in casa devo fare dei conti, quanti dischi compro, che dimensione ho, che velocità devono avere questi dischi, come ridondo questi dischi, anche se all'inizio riesco a vendere il mio servizio sulla 100 persone. Mi seguite? Devo avere tutta una serie di servizi abbastanza, diciamo, di livello alto. In questo scenario di stamani mattina, ovviamente, normalmente il carico non è mai quello che ci attendiamo e giustamente le curve vanno su e vanno giù e in questo punto abbiamo buttato via un sacco di soldi, in quel punto invece ci manca potenza o ci manca posto, se parliamo di storage dove allocare le nuove foto e magari proprio per questo motivo il nostro servizio comincia a essere meno interessante per gli utenti che non trovano lo spazio e la velocità che desidererebbero. Stiamo parlando anche di un'applicazione, non solamente web, ma di un'applicazione per un commercialista che, non so quanti di voi fanno programmi di contabilità e che tipo di commercialisti hanno, o notai o così via, il notai si è rotto le balle di avere la macchinetta sempre accesa in casa sua, che se si rompe un disco deve chiamare l'assistenza che arriva tre giorni dopo. Mi seguite? L'idea di portare queste cose fuori significa risparmiare dei costi in casa, ormai le linee ci sono, non dappertutto, ci sono ancora problemi di connettività, siamo tutti d'accordo, però il mondo sta andando verso quella soluzione. Quindi l'idea di spostare il tutto fuori e di cercare di avere un'elasticità è la risposta che il cloud dovrebbe darci. Quindi cerchiamo di seguire questa curva chiedendo potenza on demand. E Azure rispetto alle varie caratteristiche che offre, che adesso stiamo per vedere, offre almeno sulla carta e con la carta di credito di cui dicevi tu prima, potenza on demand e a pagamento on demand. È un po' come Sky, se guardo il porno pago 5 euro, se non guardo il porno non pago 5 euro. Questo è il succo del ragionamento. Anche se ci sono degli abbonamenti base, come il programma cinema che mi ha diritto ad alcune delle cose. esattamente come le tariffe telefoniche. Buono, funziona esattamente e allo stesso modo anche la piattaforma cloud. L'idea è, partiamo con un capitale inferiore. Per me capitale inferiore significa questo. Mi registro sul portale di Azure, metto la carta di credito subito, ci sono tre mesi gratuiti, se utilizzo una macchina virtuale di piccole dimensioni. Non fate il rapporto su ma che processore ha questa macchina, ma quanto disco ha questa macchina. È una macchina di piccole dimensioni. Buono, che cosa ci si può fare con una macchina di piccole dimensioni? Cose piccole, ma buono? Buono, cose per partire. Ci sono i rapporti con i processori, ma dimenticatevi il più possibile quando parlate di Azure, quando ragionate con Azure, della parte fisica. Perché noi su Azure non vediamo né l'hardware, né il sistema operativo, né Internet Information Server. Buono, è tutto completamente nascosto. Non devo installare la macchina, non devo installare le patch, non devo installare il service pack, non devo configurare gli IS. Ci pensa lui in base a cosa vedremo fra un attimo. Ok? Quindi ci dimentichiamo dell'aspetto fisico. Quindi a maggior ragione dimentichiamoci di che processore ha una macchina piccola. Buono, se poi lo volete sapere, è un GHz e 6 monoprocessore. Ma, buono, lasciate perdere. Se vi serve qualcosa di più grande, prenderete una macchina medium, large, extra large. Perché devo prendere una macchina extra large? Perché se uso tanto il processore, avere 8 core invece di uno, mi fa tanto gioco. Mi seguite? Se invece faccio un servizio web classico che risponde a delle richieste HTTP, sia che siano pagine, sia che non siano servizi, forse non mi conviene aumentare il numero dei processori, ma mi conviene aumentare il numero delle macchine. Siete d'accordo? 8 macchine piccole, uguale a una macchina grande, da un punto di vista di costi. Mi seguite? Quindi io posso fare load balancing fra 8 macchine, che se una muore, ne ho altre 7, se due muoiono, ne ho altre 6, se tre muoiono, ho sfiga. Buono? Invece se prendo una macchina grande, quella macchina che si schianta un disco, sono fregato. Mi seguite? Quindi pensate sempre a quello che dovete fare. La cosa importante è che questa roba non va installata, non c'è bisogno di andare lì a configurare queste cose. La cosa importante sarà mandare sull'applicazione, che noi stiamo per scrivere, incredibilmente, la faremo insieme, con tanto di analisi, flowchart e tutte queste cose, documenti UML, adesso ci mettiamo tutti qui a farlo, e poi ovviamente cercheremo di metterla lassù. Dicevo, costo zero, no? Torno di qua. Capitale inferiore in partenza. Faccio un abbonamento con Azure, metto la carta di credito e mi danno a disposizione per tre mesi una macchina piccola gratis. Perché metto la carta di credito? Perché se io gli dico ne voglio due, la seconda la pago. Mi seguite? All'interno di questo abbonamento ci sono un certo numero di giga di banda in uscita, la banda in entrata non si paga su Azure, la banda in uscita garantita all'interno del mese. Se sforo, pago. Paura tua. Buono? Occhio a quanto sfori. Buono. Vado, per cui vado nella sezione Cloud Services e faccio New. Non so se ci vedete, anche in fondo penso di sia abbastanza grande, se no proviamo poi a zoomare. E faccio Custom Create, perché il Quick Create non ci è mai piaciuto, no? Da sviluppatore, la roba custom è sempre più bella. Datemi un indirizzo. Dai, un nome dell'applicazione. C-Days. C-Days. Viluppatore, la fantasia, la lasciata. C-Days, sperando che non ci sia già, perché noi riceviamo un suffisso cloudapp.net, che sarà il nome della nostra applicazione lassù. Quindi il DNS verrà configurato in automatico e quando faremo il deploy di questa applicazione, l'applicazione, speriamo, risponderà a questo indirizzo. C-Days. Proviamo a metterci 2013, che non so se l'ho già fatta l'anno scorso. E la seconda cosa, scegliamo dove andare a mettere sta roba. Preferite in Asia, in Europa, in Europa dell'est, di solito lo sviluppatore vuole sempre andare lì. I data center non sono visitabili, ok? Non dovete andare lì. Non c'è neanche remote desktop. Apro e chiudo parentesi. Ci sarebbe remote desktop, ma si usa solo per capire cosa stanno facendo le macchine, non per configurarle. Buono, dopo ricordatevi questa frase, la specifichiamo meglio. In Asia costano di più i server, quindi direi rimaniamo in Europa. Nord Europa. Mi viene anche chiesto se voglio fare il deploy del package now. Abbiamo detto stamani mattina, Visual Studio impacchetta la nostra soluzione e ci consente di fare direttamente da questa interfaccia un upload di questo zippettone, di questo affarino, per fare il deploy. Ovviamente l'applicazione non ce l'abbiamo, quindi per adesso direi di non fare deploy. E faccio così. Per adesso sto spendendo zero. Mi sono riservato un url con questo indirizzo cdays2013. L'ho premuto? Sì? Con questo cdays2013, lui è in creazione. Non sta facendo niente, non stiamo spendendo niente, perché per adesso non abbiamo messo niente in deploy. Funziona come il taxi. Finché non monto sul taxi, non spendo niente. Buono, il taxi è lì davanti, fermo, mi aspetta, buono, pronto per me, ma non sto spendendo niente. Come monto sul taxi inizio a spendere. Mi seguite? Appena il taxi parte, spendo di più, giusto? Perché oltre al fatto di occupare il taxi come tariffazione oraria, mi sto anche muovendo. Vuol dire la banda. Mi seguite? Il fatto di mettere qualcosa in deploy, si paga per avere il deploy. Dopodiché c'è un utilizzo, cioè la banda che sto andando a consumare. Quindi lassù siamo pronti. Tra l'altro non lo dite, ma l'ho creata questa roba all'interno di una subscription di un nostro cliente, perché col mio account Windows Live posso gestire anche le applicazioni dei miei clienti. Posso essere nominato co-admin di altre applicazioni. Buono? Quindi un gruppo di persone può gestire le stesse risorse. Ma noi non gli diciamo niente e lo lasciamo lì. Torno sulle slide. A questo punto, capitale inferiore, giusto? Siamo partiti spendendo zero. Tra l'altro è del cliente, quindi c'è la sua carta di credito. Ci interessa, giusto? Spreco vicino alle zero vuol dire poter alzare e abbassare il numero delle istanze in qualunque momento. Stamani lo abbiamo già fatto, torniamo a farlo. Ovviamente non posso farlo sul mio servizio, visto che non ho messo niente in deploy, ma posso prendere il sito di una nostra conferenza, che si chiama .NET Campus, che come vedete sta usando due core in questo momento. Sono due macchine virtuali in parallelo con un'applicazione web del sito web della nostra conferenza, che è questo, giusto per farvi vedere che è live. Buono? Quindi è un'applicazione che risponde, come vedete qua su, a questo indirizzo cloudapp.net e come abbiamo visto stamani mattina, possiamo andare nella parte scale e alzare e abbassare il numero delle istanze a nostro piacimento. Ovviamente se le alzo, mia sessione può anche andare in time out, se alzo le istanze vado a pagare di più, quindi aumento la mia tariffazione, se abbasso le istanze, voi di queste cose non vi preoccupate, vero? Se abbasso le istanze smetto di pagare. L'unità è oraria, quindi se io alzo adesso e fra un quarto d'ora torno giù, comunque per quell'ora pago il numero delle istanze che sono andato a inserire. Direi che è il momento di scrivere la nostra applicazione. Vogliamo fare l'analisi? Diagrammino UML? Sequence Diagram? File, New Project. Faremo un'applicazione molto complessa, non facciamo un'applicazione cloud, facciamo un'applicazione web pura, web, empty web application, e la chiamiamo CD2013, tanto per fantasia. Non c'è nessuna relazione fra il nome dell'applicazione Visual Studio e il nome del servizio che siamo andati a creare lassù, ma sono due cose completamente diverse. Anche perché noi qui stiamo facendo un'applicazione molto semplice, in cui ci andremo a mettere una pagina di default, ma ovviamente potrebbe esserci il bids, il dal, cioè sarà un database dietro, una serie di servizi e così via. Quindi facciamo un web form che si chiama default e ci andiamo a scrivere del codice all'interno. Direi di mettere una label, se siete d'accordo, che chiameremo label1, così, punto text uguale datetime.now.toString. Abbiamo la label1, lo andiamo a mettere all'interno della pagina. Se qualcosa non è chiaro, ditemelo, guardiamo l'analisi insieme. ASP due punti label, ID uguale questo. Un planetto, uguale, serve. Poi si potrebbe fare MWC, non MWC, quello che ci pare. Sapete che abbiamo un ambiente locale per provarla, View in Browser, tra l'altro c'è scritto Google Chrome, tra parentesi. È un'applicazione cross browser questa, non ha problemi di impaginazione, mobile. Cioè, abbiamo rispettato tutti i canoni. E a questo punto la nostra applicazione è pronta per essere mandata lassù, fra virgolette. Noi potremmo cercare di impacchettarla e mandarla lassù. Però prima di poterlo fare, pensate a un'applicazione tradizionale, no? Deve essere messa su IIS, occorre abilitare HTTP, HTTPS, una determinata porta, un'indirizzo IP, crea una virtual directory, un virtual site. Ci sono tutta una serie di operazioni da fare. E siccome Azure non lo conosco dal punto di vista fisico, devo descrivere la mia applicazione tramite un modello, che è quello che stiamo per vedere. Ricordatevi quali erano gli obiettivi, no? Delle nostre curve. Quindi noi dobbiamo prendere il nostro servizio che adesso è pronto, potrebbe essere un insieme di servizi WCF, ovviamente, e lo dobbiamo descrivere con un modello. Al modello dobbiamo dire voglio una macchina small, voglio una macchina large, voglio 500 giga di spazio su disco per fare caching. Tutte queste cose vanno dette ad Azure, perché il deploy è completamente automatico. Noi prenderemo il nostro servizio, il nostro modello, e col portale che avete visto prima lo manderemo su Azure. Il modello viene preso da questo signore, la cui figurina è esemplificativa, è il cervello di Azure, e in base a quello che c'è scritto nel modello, lui installerà la roba nelle macchine. Fine. Non devo andare sulle macchine a fare niente. Buono? Non solo. Ma siccome queste sono tre macchine, non posso usare il remote desktop per andare a configurarle, se no ne configurerei una delle tre. Giusto? Oppure farei quello che di solito non si dovrebbe fare neanche in casa, di farne una, poi l'altra, poi l'altra. Buono? Con gli ovvi problemi di sincronizzazione. Quindi l'idea è descrivo la mia applicazione e la mando lassù. Vado. Tasto destro, add, new project, e ci vado a mettere un progetto cloud, che si chiama Windows Azure Cloud Service, bla bla bla. Lasciate perdere il nome, anche questo non è in relazione col nome del servizio. E quello che lui mi chiede ancora una volta è, siccome io conosco AspNet, conosco i servizi WCF, conosco una serie di altre cose, se vuoi ti preparo già un progetto per metterci dentro il tuo codice, ma noi ce l'abbiamo già. D'accordo? È il nostro progettino. Quindi gli dico non fare assolutamente niente, grazie, non mi creare tu il progetto AspNet perché ce l'ho già. Situazione che forse molti di voi hanno, no? Ho il progetto web, con dietro le DLL, e tutte le altre cose. Vado qui nei roles, vi ricordate stamani abbiamo detto esiste il concetto di ruolo. Un ruolo è un qualcosa di cui fare il deployment. Un web role è un qualcosa che viene esposto via HTTP per default, e un worker role è un qualcosa che sta dietro le quinte, quindi non è esposto via HTTP. Si può esporre via HTTP, ma non è di default esposto. È un qualcosa che serve per fare servizi di back-end. Quindi faccio add, web role project in solution, e scelgo il nostro CD 2013. Non sto a fare lo zoom, anzi lo facciamo. Sto riscegliendo il progetto di prima, molto semplicemente. E a questo punto andiamo a descrivere il nostro progetto. Lui ha aggiunto un po' di DLL, faccio doppio clic qua sopra, e descriviamo il nostro progetto. Volete che giri full trust? Volete che giri con permessi medi all'interno della piattaforma Azure? Quante istanze volete in partenza? 1, 2, 5, 20, 38? Che istanze volete? Piccole, grandi, medie? Volete abilitare HTTP, HTTPS? Volete abilitare la diagnostica? Vado di qua. Ci sono dei settaggi da configurare. Per settaggio si intende una chiave tipo l'application settings che usate all'interno delle applicazioni web, che anziché essere messa dentro il pacchettino di deploy ed essere deployato su tutte le macchine con problemi di sincronizzazione se la voglio cambiare. Mi seguite? Questa configurazione viene messa centralizzata all'interno del fabric controller. In pratica, quello che scrivo in questo file resta qua. E quindi, le mie righe di codice che qua dentro diranno leggo la configurazione anziché leggere dalla singola macchina la vanno a leggere da qua. In modo che quando sul portale cambio queste informazioni tutte le macchine si aggiornino in automatico. Ci metto la connection string, ci metto le mail a cui inviare le cose, ci metto il livello di log che voglio utilizzare. Buono? Le informazioni comuni stanno lì. Tutto quello che invece è dentro l'applicazione, quindi anche il web config di un'applicazione web, va a finire sulle singole macchine e richiede un nuovo update, quindi un upload del package nuovo per fare l'aggiornamento. Buono? Quindi spostate fuori dal config il più possibile quello che volete cambiare a caldo. Quello che non occorre cambiare a caldo non importa. Nessuno vi vieta di lasciare tutto nel config, basta semplicemente dire che poi dopo devo fare un nuovo update per aggiornare o modificare qualunque chiavetta. Torno di qua. Endpoint. Volete solo HTTP o volete anche HTTPS? È sufficiente entrare qui dentro, aggiungere il certificato di Verisign, per esempio, per fare HTTPS e aggiungerlo come endpoint con la porta di input 443. Fine. Buono, non devo andare in IIS, ancora una volta, ricordatevi, a installare questi certificati o cose di questo tipo. Volete un po' di spazio su disco? Sì? Quanto? Dovete dirglielo. Se no, lo spazio su disco non ce l'avete. Non fate mai riferimento a C2 punti, perché non è detto che ci sia. Buono? È la stessa preoccupazione della carta di credito. Se non c'è C, non può funzionare il mio sistema. Buono, non è detto che ci sia. C'è, non vi preoccupate, c'è un C, c'è installato Windows sopra, ma non è detto che ci sia. Lui deciderà dove mettere queste informazioni ed è la cosa più bella del mondo. Non ce ne frega niente di configurare IIS, le virtual directory e tutte queste cose. Eventuali configurazioni di questo tipo si fanno qui nel modello. Modello che, appunto, torno sulla slide, ci consente di fare un upload del modello e del servizio e di mandare su queste cose, come poi avete visto, di cambiarle live. Quindi, se abbiamo fatto, spero di aver fatto le cose corrette, faccio tasto destro, package. E già che ci siamo, vediamo che ci sarebbe anche un menu, publish, per pubblicare direttamente da Visual Studio il package e la configurazione lassù. Quindi posso farlo direttamente da Visual Studio. Io lo farei a mano per due motivi. Uno, perché prima di poterlo fare devo consentire al certificato digitale dello sviluppatore che vuole fare publish il fatto di fare pubblicazioni. Perché Visual Studio non conosce l'account Windows Live che usiamo con Azure. E poi perché, soprattutto, lo vediamo passo passo. Quindi faccio package, premo il pulsantino package, lui compila la mia soluzione, tutte le mie DLL, tutto quello che abbiamo fatto prima e mi produce questo meraviglioso package all'interno di questa directory. Come vedete ci sono due file, uno è la configurazione, cioè il modello, e l'altro è il package. C, S, P, K, G è un leo zippone che riguarda il package. Faccio CTRL-C, torno qua, ci riprendiamo il nostro C-Days 2013, mi dice giustamente in italiano nell'ambiente di produzione non sono stati distribuiti elementi, potremo anche addirittura caricare una nuova distribuzione di produzione, non so se, o addirittura fare una gestione temporanea. La prima cosa che dovete fare è questa, English, ok? In forze francese, provate meglio. Perché in English, sperando che si refresci, visto che la linea non è particolarmente veloce, questo signore si chiama production e questo signore si chiama staging. Buono? Le istanze si chiamano instance, buono? la configurazione si chiama configure, la dashboard si chiama dashboard anche in italiano. Dai che ce la puoi fare. Già che ci siamo, vi ricordate il menu scale serve per alzare e abbassare il numero delle istanze, instances serve invece per vedere fisicamente le istanze e se volete connettervi con il remote desktop ricordatevi, per capire cosa sta succedendo, non per fare operazioni di configurazione e certificates invece è la parte di certificati digitali. Si va in produzione o in staging? Staging? produzione, l'abbiamo testata prima, funziona? Dai, andiamo in produzione. Versione 1 addirittura, non 0,9, 0,9. Faccio un'operazione di control V per riprendere la directory di prima, prendo il package, prendo il file di configurazione e gli dico subito una cosa, deploy even if one or more roles contain single instance. Allora, Azure ha una policy che ci dà giustamente un warning per dirci, se tu hai una sola istanza, va bene che non paghi per tre mesi, hai paura con la carta di credito, ma se hai una sola istanza io non posso garantirti il 99, 99% di uptime in un anno, perché l'hardware si rompe, giusto? E lo sapete tutti che con una macchina sola purtroppo non si riesce a raggiungere quel livello. Quindi questo checkbox ci evita, che lui eviti, di fare il deployment perché ha un problema secondo lui. Buono? Quindi noi possiamo fare l'override e dire guarda non ti preoccupare, va benissimo che uno dei nostri ruoli abbia una sola istanza. E la seconda cosa che possiamo fare è uno start, perché sono due operazioni diverse, un conto è mettere il package lassù e installarlo e un conto è rendere disponibili questi ruoli verso l'esterno, cioè aprire fisicamente la porta 80 443 verso l'esterno. Ricordatevi che sono due operazioni diverse. Si paga al deployment però, non allo start. Si paga montando sul taxi, non facendolo muovere, ricordatevi questa frase. Vado. Ora, dovremo aspettare tutto il tempo di upload, lui sta mandando su le cose, saranno 8 giga di pacchetto Visual Studio, non lo so, e poi ovviamente appena le cose arrivano lassù ci vorrà un attimo di tempo per riuscire a farle. Intanto lo lasciamo lavorare e noi continuiamo con le slide. Ovviamente non ci interessa sapere se poi alla fine della sessione arriviamo in fondo, però vedere la data lassù ci potrebbe essere una cosa carina. Abbiamo detto che esiste un DNS, ma non c'è una gestione del DNS, vuol dire che non potete configurare www.pipo.com. Il DNS resta col vostro provider e in quel caso il pipo.com deve essere un alias, cioè un record di tipo A nel DNS verso cd2013.cloudup.net quindi il DNS è automatico interno ai data center di Microsoft con il suffisso cloudup.net Vado. La scalabilità non starei a farvela vedere, abbiamo visto che con il portale possiamo alzare e abbassare il numero delle istanze in qualunque momento, alzando e abbassando ovviamente di conseguenza il costo. Una cosa importante però è che qui c'è scritto API, vuol dire che la configurazione che si fa dal portale è fattibile, è eseguibile, anche dall'esterno chiamando l'API, ovviamente con opportuni criteri di security. Quindi io potrei farmi un qualcosa che gira o su Azure o in casa mia che grazie a questo API alza e abbassa le istanze in base a counter the performance monitor, in base a il sito comincia a rispondere lentamente, alzo le istanze. Mi seguite come ragionamento? Quindi posso fare dei controller che vanno a monitorare quello che succede e alzano e abbassano le istanze in base all'API. Se no, molto semplicemente con l'interfaccia che avete visto prima e l'abbiamo fatto stamani si può alzare e abbassare il numero delle istanze. Quindi giusto per dare a lui un attimo di tempo, secondo me ha senso dire il perché esiste il cloud computing e a quale tipologia di applicazioni si adatta. Questo è chiaro. Cresco, magari velocemente, non ho le risorse per investire in hardware, non ho il tempo di star dietro alla crescita con dell'hardware che mi metto in casa, l'indirizzi, l'indirizzamento, il sistemista, la configurazione. Ci sono una serie di cose da fare, anche semplicemente comprando un nuovo disco ci sono delle operazioni da fare, qua l'idea è alzo il numero delle istanze. E ricordatevi che lo faccio per la parte computazionale, perché la parte di storage, tabelle, blob, code e così via, si alza da solo. Più ci metto roba e più pago. Fine. Buono, non devo alzare e abbassare il mio numero delle istanze. Oppure, unpredictable bursting. Sarebbe un picco che non mi aspetto. Succede, no? All'interno delle applicazioni, non si sa per quale motivo, forse un amico di un amico di un amico fa un mi piace su Facebook e arriva un qualcosa sul nostro sito di commercio elettronico, sulle offerte di cui dicevamo prima e così via. Quindi ho un picco. È chiaro che non posso reagire qui, molto probabilmente, ma magari posso reagire qui, cercandone di coprire quello che era il picco alzando appunto il numero delle istanze. Oppure, on-off, sistema di mailing che dicevamo prima. Questa azienda di qui sopra che avete visto, il sito si chiama Vivi Gratis, è un aggregatore di offerte come ce ne sono tanti, manda ovviamente delle newsletter. E le newsletter le mandano la mattina con le offerte del giorno. Idea. La macchina work and roll, perché non c'è bisogno di un frontend, che manda le newsletter, cioè che guarda nel database a chi le devo mandare, che mette sta roba in un HTML e lo spedisce, parte alle 8 di mattina e si ferma alle 9 di mattina. L'azienda paga un'ora il giorno di cloud instance, cioè 0,12 centesimi al giorno per il servizio di mailing. Buono? Il cloud è fatto così. una frase importante, keep the cloud clean. Quello che non serve avere live, tiratelo giù. L'ambiente di staging non l'abbiamo considerato, non noi prima, ma io metto la roba in staging, la provo, quando funziona la metto in produzione e lo staging lo butto via, se no lo pago. Mi seguite? Lasciate il cloud con solo quello che serve, i dati che vi servono, le applicazioni che vi servono. Altra cosa che si può fare in questo giochetto di inattività, per esempio, è abbiamo un cliente in Bologna che fa statistiche per la pallavolo, le partite lo sapete solo il mercoledì sera o la domenica, loro attivano i servizi solo il mercoledì sera e la domenica, senza pagare tutti i resti della settimana. Vuol dire che in pratica quel deployment che avete visto prima viene automatizzato ovviamente con qualcosa, non è che c'è l'omino che fa l'upload, ma in ogni caso si pagano solo le ore di effettivo utilizzo. E l'altra cosa a cui si adatta molto bene il cloud, l'altro trend, è il predictable bursting. Natale, San Valentino, su un sito di commercio elettronico, buono, faccio la promozione e quindi alzo il numero delle istanze perché mi aspetto un ritorno, quindi posso prevedere quello che è appunto il momento di picco. Vediamo come sta? Successfully initiated production deployment, quindi il package è andato su e adesso sta andando in produzione. Bene, vado avanti. Altra cosa importante del cloud, ricordatevi, non dobbiamo aggiornare il sistema operativo, adesso c'è Windows Server 2012, fino a pochissimo tempo fa era Windows Server 2008 R2, il passaggio è automatico, se dite nel modello aggiorna pure da solo, fai tutto tu, noi ogni giorno, ogni settimana troveremo tutte le fix di Microsoft a nostro rischio e pericolo con l'aggiornamento automatico. Altrimenti potete dirgli non fare un aggiornamento automatico e ti dirò io sempre dal portale di cambiare il sistema operativo, di andare avanti di una versione del sistema operativo. Azure è uscito a ottobre 2009, buono, quindi sono tre anni e quasi mezzo che esiste, siamo alla versione 3 adesso che è quella basata su Windows Server 2008, ci sono state tutte le versioni intermedie, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, tutte le volte posso scegliere ancora una volta se aggiornare oppure no. Altra cosa importante della idea di manutenzione zero è che se una macchina crescia, smette di rispondere a quello che è il cervellone di Azure, la macchina viene fatta fuori e viene ovviamente ricreata. Non c'è nessuno nei data center che va a riparare la macchina, buono, non c'è l'omino col cacciavite che cerca di dare le martellate sul computer per farlo ripartire. Il sistema è automatico, non so se qualcuno di voi ha visto qualche video, i computer sono in dei container fatti di 50 o di 100 macchine, sono così di così, niente di che, all'interno di questi grossi container arriva il camion col container, piazza il container, c'è un bocchettone così, così scusate la forma, si attacca il bocchettone, corrente, raffreddamento, alimentazione e banda. Fine. Buono? Nessuno va dentro a riparare le macchine. Si rompe una macchina, si lascia stare, se ne rompono due, si lascia stare, se ne rompono n, altro container. Fine. questa è l'industrializzazione del software, delle macchine. Per questo che i costi sono così bassi, se no non potrebbe costarci 0,12 una macchina small. Vado. Azure non è, questa è pubblicità pura, non è solo .NET, noi abbiamo scritto un'applicazione .NET molto complessa, tra l'altro, ma su Azure possiamo far girare tutti questi altri signori. Io posso mettere il motore di Java Server Page, così con il motore di Ruby, il motore di PHP, che tra l'altro è nativo adesso, oppure fare federazioni di identità, se vi interessa la prossima sessione, Pialorsi, Paolo parlerà di queste cose, federazioni di identità con Google, Facebook e così via, sempre all'interno della stessa piattaforma. Quindi posso scrivere applicazioni, fra virgolette, multipiattaforma o multilinguaggio, come volete. Qualunque tipologia di applicazione che si rispetti, quindi non la nostra, ha bisogno di un posto dove andare a inserire dei dati. Esiste una versione di SQL che si chiama SQL Azure, che ancora una volta lavora con modello cloud, ma in modo un po' diverso rispetto alle istanze che abbiamo visto prima. Perché la prima cosa che viene in mente con SQL versione cloud è avrò la mia macchina virtuale con sopra SQL Server, avrà un indirizzo IP e io ci accedo. No. SQL viene venduto o viene noleggiato as a service. Quindi per noi è un servizio. Io non vedo la mia macchina, non vedo il mio server. Io vedo solo e esclusivamente i miei database. Quindi io creerò un database, ovviamente lo creerò su un server, il nome di questo server è un nome che viene assegnato da Azure e ci saranno sopra di database sia miei che di altri. Buono? Quindi è un servizio di noleggio di SQL Server. Quindi non posso andare su quella macchina sul disco di SQL e fargli un backup. Mi seguite? Posso usare però gli strumenti di amministrazione remota di SQL per cornettermi e eseguire operazioni amministrative sui database e ovviamente sugli utenti che possono accedere a questo DB. E il gioco funziona così. Ancora una volta vado sul portale poi magari lo vediamo. mi connetto creerò un database lancio sopra uno script nel momento in cui lancio qualunque istruzione SQL quindi non solo lo script ma anche semplicemente una insert into il cervello di SQL Azure farà questa operazione su tre nodi. In pratica SQL l'ha dietro noleggiato e è su un cluster anzi scusate a tre nodi. Il mio dato è ridondato su questi tre nodi. Se cresce una macchina ho sempre le altre due. Quindi l'idea è avere un servizio sempre disponibile con manutenzione zero. Cioè non devo andare ancora una volta a installare le fix su questo signore. Come faccio ad accederci? Posso accederci ovviamente da un'applicazione cloud o da un'applicazione che sta qua senza nessun problema quindi SQL è lassù. Se lo voglio aprire come regola del firewall lo apro sempre dall'interfaccia che poi vi faccio vedere e mi connetto semplicemente modificando la stringa di connessione. Fine. ricordatevi che poi l'applicazione è qua e il database è tanto là. Ok? Molto là. Quindi se fate se avete un codice scritto bene l'applicazione va forte. Se avete un codice scritto male se in casa sentite poco il problema performance ci sta che lo sentiate molto là su. Mi seguite? Pensate alla paginazione. Se ho un milione di record e faccio paginare il database facendone uscire 20 zero problemi. Mi seguite? Se faccio paginare l'applicazione come tutti gli strumenti automatici di Microsoft fanno diventa un problema. Mi seguite? Perché mi tiro giù un milione di record quindi ho un problema di latenza e ho un problema di costi perché sta roba viene giù. Mi seguite? Quindi se l'applicazione è scritta bene va forte se l'applicazione è scritta male in casa si soffre un pochino meno. Abbiamo giocato sporco mettiamo un cabo in fibra fra il nostro web server e il nostro SQL o lo monto sulla stessa macchina così vado più forte. Buono? questo è SQL vediamolo. Torno qua vado nella sezione database e ci creiamo il nostro DB poi non faremo codici di accesso ai dati tanto non è che sia così importante ma new data service vedete che abbiamo due aree diverse poi ne parliamo della seconda che è la parte di storage e vado a fare ancora una volta custom create o quick create come volete. Dai! Nome del database PIPO CD 2013 per uniformità occhio che poi non accediamo da quell'applicazione a quel DB quindi abbiamo un problema di nomi pazzesco volete una versione web o una versione business? Questa è una delle domande che non si capisce sui soldi web vuol dire un database da 1 giga o da 5 giga business vuol dire un database su una macchina un pochino più pionzona che vuol dire un pochino più grossa da 10 fino a 150 giga quindi scegliete quello che volete nell'abbonamento gratuito c'è una versione ovviamente web da 1 giga scegliete la solita collection ancora una volta come vedete non stiamo vedendo SQL stiamo vedendo un'interfaccia di amministrazione scelgo ancora una volta la subscription in cui andare a infilare queste cose queste sono tutte le mie subscription non domandatemi chi è Zupacchiotta per favore è il nome della sviluppatrice ne prendo uno questo e vado a scegliere un server io in questo caso in questa subscription non ho nessun server quindi creo un database server e come vedete non sto prendendo un cd andando da qualche parte mettendo il cd dentro e facendo il setup di SQL sto semplicemente creando un server così diamo un nome del login cd2013 bravissimi una password un pochino complessa e decidiamo dove andare a mettere il nostro DB ancora una volta nelle regioni che abbiamo visto prima sotto importantissimo consente alle applicazioni su Windows Azure cioè ai servizi su Windows Azure di accedere a questo server vuol dire aprire il firewall alle applicazioni che stanno lassù perché per default se no SQL è chiuso sia verso di noi cioè verso l'esterno di Azure ma anche verso l'interno di Azure quindi posso anche avere l'utenza corretta amministrativa che stiamo creando adesso ma non ci posso accedere per le regole sul firewall vado finito buono partito il pakistano e andate a installare il nostro serverino creating online pronti prendo management studio e mi connetto lassù finito buono eh supporto pakistano giustissimo ora il problema è appunto se ho un problema a chi telefono perché il pakistano non parla bene l'inglese ovviamente ancora una volta posso andare a vedere all'interno del mio database una serie di cose tipo se ci sono stati dei deadlock piuttosto che delle connection fallite questo sarebbe una specie di performance monitor in remoto ovviamente guardo quanto spazio dati sto utilizzando ovviamente per adesso è 0% e qua molto importante ho la connection string per edio.net cambia leggermente perché il nome del server è questo la porta è sempre la 1433 il database ovviamente si chiama uguale e occhio il nome dell'utente non è cd2013 admin che abbiamo scelto noi prima ma è chioccio la nome del server questo perché i server SQL non sono esposti su internet quindi io non faccio login al mio server io faccio login al meccanismo di load balancing che sta davanti ai server quello esposto fuori e gli dico sono cd2013 per quel server e lui fa quella che si chiama sticky connection verso l'interno buono per cui il database non è esposto fuori per questo l'utente è per quel particolare server driver adbc php bla 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 buono è SQL server lassù mancano un po' di cose rispetto a SQL server ovviamente magari ne parliamo fra un attimo e ricordatevi le regole del firewall se ci voglio arrivare da qui anche col management studio ho bisogno di aprire al mio indirizzo IP o ai miei indirizzi IP le regole del firewall e ci vuole qualche minuto perché siano attive ok allora abbiamo visto arrivo la parte computazionale velocemente ovviamente quindi la possibilità di mettere lassù qualcosa in produzione in staging con due o tre costi che abbiamo accennato ricordatevi che la carta di credito va sempre messa anche per la parte SQL ricordatevi che SQL può vivere senza l'applicazione e l'applicazione può vivere senza SQL buono sono due servizi completamente distinti e che si pagano in modo completamente disgiunto vai intanto si la domanda è se si paga la banda in uscita da SQL la risposta è sì siccome SQL è lassù quello che tu sfili da SQL qualunque cosa sia la paghi giusto da applicazione cloud da SQL no ok siamo dentro il data center quindi non pago questa banda esatto quello che pagherò è la banda poi dall'applicazione verso di me allora tra l'altro lui ci sta dicendo che nel nord Europa per la subscription uno info c'è una roba che si chiama running che è il nostro cds 2013 per cui direi che la nostra applicazione dovrebbe essere lassù vado? o vogliamo alzare prima le istanze? magari facciamo troppo traffico? olè esatto è molto performante tra l'altro se no possiamo alzare il numero delle istanze buono perché facciamo la logica della data per questo motivo tutti i server su Azure virgola per fortuna virgola hanno il central european time se no diventiamo matti ok? questo rende indipendente l'applicazione da dov'è cosa che sarebbe bene fare in qualunque applicazione del pianeta perché se un domani sposto i miei server da qualche parte devo riscrivere la mia applicazione ricordatevi il tempo è il central european time alziamo le istanze no perché il central european time la domanda era se il server è in Europa no ok? perché central european time sempre buono? allora ho un indirizzo IP di questa macchina è un indirizzo IP virtuale è il 168 6380 130 se volete possiamo provare a fare HTTP su questa roba qua ma non fateci mai affidamento perché se questo signore in qualunque motivo viene rimontato in deployment otterrà probabilmente un altro indirizzo IP tutto su Azure è a livello un filino più alto per fortuna ci dobbiamo dimenticare di quello che è la roba a basso livello non è comunque un indirizzo IP fisico ma è un virtual indirizzo IP ovviamente se le macchine fossero più di una avrei più indirizzi vado vogliamo mettere qualcosa in staging? vogliamo volete vedere qualcosa di particolare? sì la configurazione qua su se vi ricordate nel nostro modellino c'era una sola cosa che esisteva come righe di config che si chiamava sempre CD2013 lo inserisce in visual studio in automatico e ha una clausolina che è use development storage uguale true chi se ne frega di quello che vuol dire la clausolina l'idea è è un settaggio applicativo che io posso leggere con le librerie di Azure e che posso cambiare a caldo quindi tutto il mio codice anziché leggere il config come dicevamo prima sarebbe bene che leggesse queste API vado oh vai ricomincia da codice come accede a questi settings se io avessi progettato la libreria avrei detto il configuration manager punto app settings dentro dice if cloud prova a vedere se c'è se no lo leggo dal config però esatto non l'abbiamo scritta noi sta libreria quindi devi fare if role environment punto is available vuol dire sommica sotto Azure se la risposta è sì role environment punto get configuration setting value else ti leggi l'altro ancora una volta se il codice che legge il config l'avevi scritto in un posto solo come da manuale delle giovani marmotte del buon programmatore basta cambiare quella riga se no c'hai un po' di find a replace da fare e già che ci sei fallo per tutte e due le piattaforme buono magari in una prossima versione ci sarà questa doppia veste puoi farti un extension method se vuoi che lo frega magari in qualche modo riesci però comunque è una riga di codici diversa altra cosa importante lassù esiste anche uno storage account che non è SQL server è un mondo diverso è un mondo semplicemente di storage dove appoggio dei dati non so se vi basta ma per ogni storage account avete 100 tera e ovviamente per ogni vostra subscription potete memorizzare questi 100 tera per ciascuno di questi signori loro dicono che è scalabile durevole e sempre disponibile perché qualunque cosa venga messa nello storage adesso vediamo cosa ci possiamo mettere è replicato su tre nodi fisici non solo il load balancer divide le risorse in base al carico questo vuol dire che se io metto lassù 100 file forse stanno su un nodo solo se io ne metto 5 milioni forse vengono messi su più nodi in contemporanea per me è tutto trasparente quando io accederò a uno di questi nodi scusate a uno di questi blob a uno di questi file ci penserà lui a cercarlo nei server corretti questo vuol dire fare parallelismo questo vuol dire scalabile vuol dire durevole perché giustamente si spera fino a che noi non lo cancelliamo non ce lo cancella nessuno è sempre disponibile appunto perché è replicato su tre nodi si paga solo per quello che si usa spazio occupato e accessi poi ricordatevi c'è sempre la banda la banda va sempre pagata è esposto via rest http che vuol dire iphone android windows phone basta ovviamente avere i criteri di accesso corretti per firmare queste richieste http io posso andare a mettere un file lassù e recuperare un file dallassù come faccio a mettere un file lassù e recuperarlo con due semplici fra virgolette righe di codice qui abbiamo un'applicazioncina molto semplice sempre ancora una volta un'applicazione web con una paginetta di default che vi faccio vedere che ha un repeater qualcuno di voi se lo ricorda un repeater di asp.net che consentono di vedere quello che è memorizzato lassù si chiama repeater blob il codice che c'è dietro accede ai blob cioè ai file che ci sono lassù ed esegue questa operazione proviamo a leggerlo insieme cloud storage account vi ricordate storage account è il riferimento l'indirizzo al mio storage account mi creeresti per favore il blob client blob client è il client come nei servizi vcf è la reference lato client il proxy lato client sul blob posso ottenere riferimento a un container è una directory che sta lassù quindi io posso suddividere i miei blob i miei file giustamente in tante directory quindi chiederò un riferimento al container e poi con una query link gli dico caro container mi fai vedere tutti i blob e già che ci sei mi estrai solo gli url di questi blob siccome ricordatevi ci accediamo via http e rest semplicemente vediamo quali sono questi blob e poi nel perfetto stile asp.net faccio data bind non solo mettiamo un pulsantino di upload che fa il classico file upload di asp.net ripetiamo le stesse righe di codice vi consiglio di centralizzarle queste sopra e sotto e poi facciamo caro container mi daresti un riferimento al blob con lo stesso nome del file di cui ho fatto l'upload vi seguite tutti? molto chiaro e poi faccio upload from stream quindi l'idea è più o meno questa prendo questa paginetta la visualizzo all'interno di un browser ricordatevi che la sto facendo girare qui e vado a recuperare questo contenitore lui mi sta facendo vedere che esiste un file occhio che è 127.001 perché per fortuna Azure ha un simulatore locale quindi per evitare di dover per forza di cose mettere della roba lassù io posso provare il tutto in locale in locale posso provare anche le istanze vengono simulati con processi diversi e lo storage ricordatevi rest.http è esposto sulla porta 10.000 per quanto riguarda i blob 10.001 per quanto riguarda le tabelle 10.002 per quanto riguarda le code quindi io posso provare la mia applicazione mettendoci dei file mettendoci dei record in tabella o mettendoci dei messaggi in coda direttamente in locale e come vediamo c'è già qualcosa all'interno ricordatevi gallery è il nostro contenitore prendo un file su disco pericolosissimo andare su ctemp ci proviamo buono faccio l'upload vi ricordate quello che succedeva giusto? metto su il file in AspNet classico e da lì lo mandavo lassù dopodiché scatta il pre-render che mi rivisualizza questo file buono? volete vederlo in debug? no buono una cosa carina dei blob e dei contenitori è che io posso definire un contenitore come pubblico pubblico vuol dire che non ho bisogno di nessuna chiave per poterci accedere in lettura il che rende particolarmente carino il poter fare questo buono? vado a scaricare direttamente il file ho fatto una richiesta http ho detto che il contenitore era pubblico e quindi il file può venire giù queste informazioni sono tutte scritte qua dentro adesso ovviamente non stiamo a fare il download del file all'interno ancora una volta del nostro web role come configurazione nei settings c'era scritto questo così torniamo alla scrittina di prima gli diamo un significato data connection string è di tipo connection string e c'è scritto use development storage true in pratica dice cara libreria di azure quando userai il cloud storage account usami il development storage locale chiaro? ditemi sì per favore ok torno di qua domande su blob non vediamo un esempio di table ma è relativamente semplice ricordatevi che le table sono un mondo non relazionale sequel c'è è lassù l'abbiamo creato prima al volo ed è il mondo relazionale le table sono un mondo non relazionale molto più scalabile fra virgolette infinito come spazio si arriva a 100 tera come avete visto ma non è relazionale e che lo rende scalabile ok? bene respirone ultimo argomento stanno uscendo quelli che hanno definito web site allora non sempre abbiamo bisogno di un meccanismo di deploy come abbiamo visto prima cioè in cui costruisco definisco il mio package definisco il mio modello metto la roba lassù faccio gli upgrade e così via ma a volte devo fare solamente un piccolissimo sito web magari fatto con Joomla magari fatto con WordPress quindi non c'è bisogno ci sarà bisogno probabilmente di scalabilità ed è carino poter alzare e abbassare le istanze questo resta comunque valido perché è sul cloud ma ho bisogno di un hosting fra virgolette un pochino più tradizionale magari arrivo via ftp a fare il mio publish e uso web matrix visual studio o quello che vi pare per poter editare le pagine all'interno del mio sito chi ha lavorato un po' con Joomla o con cose di questo tipo sa di cosa sto parlando o anche semplicemente un sito con front page se uno lo vuole usare c'è mi sa che lo regalano anche adesso torno di qua scusate ho lisciato di uno e andiamo nella parte website che come vedete qua su in alto è in preview ancora manca poco all'uscita ma siamo ancora in preview che cosa vorrei farvi vedere questo faccio new ancora una volta andiamo in un new website possiamo fare quick create o custom create quindi creare un nuovo sito web in cui viene dicevamo aperto subito l'ftp e in cui possiamo avere ovviamente un piccolo database dietro oppure facciamo from gallery che è la cosa forse più carina lui fa un bel inventario di quelli che sono i template disponibili lassù fra cui troveremo .net nuke e i vari prodotti fra virgolette simil microsoft la versione professional non professional blog engine non so chi di voi lo conosce das blog che probabilmente è tedesco dal nome e poi abbiamo il nostro amico joomla25 vado next datemi un indirizzo bravissimi perfetto mi seguite non è più .cloudapp.net quindi lo posso usare ma azurewebsites.net quindi speriamo di non averlo di già e giustamente siccome joomla ha bisogno di un db posso andare a creare un db e sorpresona oltre a SQL server c'è un mysql buono dove lo volete mettere su SQL ho risposto prima a lui mi fido usiamo SQL ancora una volta dove vogliamo andare a inserire le cose ci sono meno regioni di prima perché i data center non sono ancora tutti pronti per ospitare questa parte che ripeto è ancora in beta ancora una volta abbiamo la subscription da dover scegliere prenderò sempre questa e poi abbiamo i dati per joomla tipo mi dai per favore l'administrator di joomla dammi una password che adesso scriviamo al volo pip89a appunto pip89a appunto ricordate caricami dati di esempio questa è una roba di joomla come sempre dammi un nome dal sito web ovviamente e ancora una volta dammi una password per il database SQL che ti andrò a creare dietro le quinte l'email info chiocciola devlip punto com leggiamo tutti insieme velocemente i legal terms dai che ce la fai via e lo mettiamo sul nostro server se vi va bene uso quello di prima ce la possiamo fare pip89a appunto vado la password l'abbiamo azzeccata e lo lasciamo qui torno di qua quindi windows azure website sono siti web con l'idea di fare non applicazioni di livello enterprise o cose da manipolare fra di noi ma avere il classico sito web che ovviamente può essere un'applicazione in cui viene aperto l'fdp in cui in automatico avete il collegamento con web matrix e altri strumenti per poter fare deploy delle vostre pagine ricordatevi la differenza nei web role io ho il mio pacchettino di setup se faccio una modifica devo modificare il sorgente ricompilarlo rimpacchettarlo e mandare su il package qui ho il sito ftp quindi posso cambiare i singoli file mi seguite è una grossa differenza un ambiente un po' più semplice un ambiente un pochino più enterprise di là ho l'ambiente di staging e di produzione qui ho il sito web abbiamo visto joomla abbiamo detto che esiste anche la possibilità di usare wordpress sta uscendo anche un'altra roba che domani vedrete in plenaria quindi l'ho scritta sulla slide solo per completezza si chiamano mobile services e l'idea è avere una struttura SQL abbastanza elastica da esporre con dei servizi ancora una volta resti http accessibili da più piattaforme ed è possibile in veramente 5 minuti però lascio la demo domani a Marco se non sbaglio o Alessio non mi ricordo di farvi vedere come funziona l'idea è creare qualcosa nel back end con una struttura SQL ed esporla in automatico con tanto di righe di codice iPhone, Android, Windows Phone Windows 8 quindi faccio il download dell'applicazione e poi ci comincio a lavorare ho già il template per lavorare collegato fisicamente a quella parte che sta lassù all'interno dei mobile services porca miseria non avevo premuto questo signore dovevo farvi vedere anche il sito con Joomla ma non l'avevo fatto ok qualche domanda abbiamo 5 minuti vai la domanda è se Joomla Joomla o gli altri vengono aggiornati in automatico oppure no di solito scegli l'aggiornamento automatico del template cioè è Joomla stesso che ha gli autoaggiornamenti non è demandato a Microsoft loro ti aggiornano il sistema operativo ed eventualmente l'IIS che sta tenendo le cose ma non la parte applicativa quindi devi farlo tu vai giusto nella stessa istanza posso mettere più websites sì anche web role e anche worker role potresti fare una sola macchina dove hai 3 website scusami 3 web role e 2 worker role all'interno chiaramente poi sfrutterai sempre lo stesso processore le stesse risorse ma si può fare si possono già che ci siamo si possono creare website diversi sì si possono creare virtual directory diverse sì il tutto lo si fa sempre in quel file di configurazione non si va mai in IIS a toccare queste cose buono in quel file che abbiamo visto prima cs-cfg scriviamo questi tag xml per configurarlo sì 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 ti torno un pezzettino indietro qua la parte del portale espone delle API con cui tu puoi interrogare lo stato dei tuoi servizi ed eventualmente agire di conseguenza un alert non te lo mandano allora in realtà loro ti avvertono se stai ti stai avvicinando al limite della tua subscription cioè se la tua subscription prevede la possibilità per esempio di usare gratis qualcosa se ti avvicini al 70% dell'utilizzo ti arriva una mail se arriva l'85% ti arriva una seconda mail poi carta di credito quello che si può fare oggi sulle subscription gratuite è impostare un limite hanno preso spunto in questa idea da Google che in App Engine ha i limiti buono? quindi mentre prima si andava a spendere non si sa quanto adesso puoi impostare il limite quindi puoi dire io voglio sfruttare la piattaforma gratuitamente in quello che è compreso nella mia subscription e poi fermati il che però vuol dire che se questo servizio lo dai live fuori e poi qualcuno fa sforare il tuo limite il servizio si ferma quindi scegli tu se fermarti oppure se pagare guardate bene i prezzi perché una delle cose che spaventa tanto su Azure è quanto costa per esempio non so lo storage o l'accesso allo storage ogni accesso allo storage metto il file prendo il file guardo se il file c'è dammi l'elenco dei file abbiamo fatto 4 accessi buono? gli accessi costano un centesimo ogni 10.000 ok? quindi prima di dire minchia quanto si spende fate il conto perché a volte viene fuori un conto banalissimo bassissimo a volte invece può venire fuori qualcosa di serio buono? fatevi un conto però non spaventatevi più di tanto prima di fare i conti il problema che dicevamo prima e intanto arrivo provo a fare così il problema è fare questi conti cioè sapere che cosa fa l'applicazione se tu mi chiedi ma quanto spendo a mettere i miei 10 tera su Azure i 10 tera lo posso sapere si può fare un conto al volo ma non rispetto a quanti accessi farai buono? come? accessi lo storage lo paga accessi buono? un conto è la banda che sono i K che tu trasferisci e un conto è il numero degli accessi ok? lo storage lo paga il numero la pagina web che scarica 4 fotografie e queste 4 foto sono state prese come IMG e SRC o dall'applicazione web per mandarli giù non cambia sono 4 accessi poi in giù pagherai la banda per l'intera pagina più le immagini più il CSS più il jQuery più tutta la roba che c'è sul web ma scusa mi avevi una domanda tu la domanda è se a livello di pricing ci sono dei casi mettiamola così in cui posso pagare le richieste fra la mia applicazione e il mio storage la risposta è sì per garantire il fatto che queste richieste interne fra lo storage e la tua applicazione non vengono pagate devi fare un affinity group che tradotto vuol dire mettere i server nello stesso data center che tradotto ancora vuol dire se io metto la roba in West Europe io non so dove va sta roba oggi posso anche assumere lo so che è Berlino perché c'è scritto da tutte le parti però non è detto che sia Berlino via X potrebbe essere Berlino come Amsterdam come in Cecoslovacchia mi seguite? quindi se io metto qualcosa in West Europe il mio servizio potrebbe finire a Berlino e se io metto qualche cos'altro sempre in West Europe potrebbe finire in Cecoslovacchia mi seguite? in quel caso la banda la dovrei pagare quindi il trucco o il sistema per non pagare che non solo è un sistema per non pagare ma anche per tenere vicine le cose in modo da soffrire meno della latenza fra data center diversi e crearti un affinity group per creare un affinity group intanto il nostro Joomla è su che bello la demo del cacchio era questa però insomma faceva figo mentre parlavamo si fa torno di qua per creare un affinity group tu entri dentro la diciamo il tuo website o i tuoi cloud services e all'interno nei settings vai a crearti un affinity group quindi una roba a cui tu dai un nome chiamalo mio affinity group gli dici in quale delle regioni vuoi che sia questo affinity group e a questo punto tutte le volte lo possiamo fare che andiamo a creare fisicamente un qualcosa di nuovo tipo un cloud service per esempio anziché scegliere li trovi qua le region gli dirai in quale dei tuoi affinity group vai a lavorare e la regola principale è questa appena iniziate createvi il vostro affinity group lo mettete in una regione e poi mettete tutto dentro tanto siamo sempre in tempo a spostare le cose però diciamo a spostarle fuori a creare cose fuori però avere un affinity group subito vi serve per esempio il famoso Vivi Gratis che avete visto prima è in nord Europa il nostro sito DevLip è sempre in nord Europa e si chiama DevLip Affinity e dentro abbiamo il nostro storage e i nostri servizi in modo da tenerli vicini anche un'applicazione che acceda a dei vostri servizi a senso metterla magari su due role diversi ma nello stesso affinity group così pagate meno uno e avete meno latenza vai il simulatore mi aiuta un anno meno a tenere traccia di un po' di statistica per capire no quanti accessi quanta banda no il simulatore ti dà una mano nel capire accessi banda no anche perché le strutture vengono appoggiate su SQL Server in locale o su SQL Express quindi il simulatore non ti dà neanche un'idea dei file che vengono appoggiati poi non sai bene come vengono messi lassù quindi poca roba chiuderei dicendo questo la sessione è finita in perfetto stile Azure andiamo qua ovviamente questo lo annullo prendo il mio cloud service vado in Cdays 2013 direi che il nome ce lo ricordiamo e faccio delete fammi fuori la produzione e fammi fuori il deployment da ora fino alla fine della mia ora smetto di pagare buono? quindi alla fine della mia ora minima smetto di pagare quindi avrei pagato un'ora mi seguite? tutto quello che abbiamo fatto adesso l'idea è questa dovrei togliere lo storage dovrei togliere SQL in realtà SQL non ci abbiamo messo dei dati dentro abbiamo creato un database quel database costa quindi posso andare anche nella parte SQL di qua e fare esattamente la stessa operazione faccio fuori quello che sono andato a mettere su era il nostro CD 2013 DB uno è quello di uno di Joomla e l'altro è sono entrambi sullo stesso server anche in questo caso faccio delete e ovviamente lui senza grossi avvertimenti mi dice grazie mille non hanno messo le solite frasi ma sei sicuro? 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 non è che vuoi ancora sicuro? intanto passa il timer non c'è vado io vi ringrazio siamo precisi col tempo e vi lascio alla sessione di Paolo se volete nell'altra sala sull'identità federata Facebook rispetto alla nostra applicazione Google rispetto alla nostra applicazione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti